Qui in Comipol è tutto pronto per i saldi, dal 5 inizieranno con percentuali dal 30 al 60, sia collezione uomo che collezione donna. Vi aspettiamo. Ciao ragazzi, vi aspetto dal 5 gennaio al 18 febbraio per i super saldi Jack and Jones, dal 30 al 50%. Vi aspetto con rete numerosi. Ciao. Ciao ragazzi, è tutto pronto per i saldi, cominceranno il sabato 5 gennaio con sconti dal 20 al 50%. Vi aspettiamo. Qui da Serranova vi stiamo aspettando il 5, iniziano i saldi e quest'anno, grandi novità, partiremo con il 50% tutto fin dal primo giorno. Ecco, è tutto pronto per i saldi, venite! e poi tatterizzate. C'è, che seguiva non posso aspettare il locale, non posso più tardi, non posso più tardi. Sono più tardi, vuole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono molto lieto di portare la gente all'apertura dei saldi con uno street food invernale, cosa assolutamente nuova e atipica, tra l'altro caratterizzato da dei track molto particolari. Vi invito tutti a venirci a trovare al Molo 844 che da sabato iniziamo con i saldi e in questo momento potete trovare anche da mangiare e da bere cose particolarissime, tipiche anche non solo di questa zona e molto molto sfiziose. Vi aspettiamo tutti. Grazie, buon anno, buon 2019 a tutti.